Oh, 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 oh. Vagli... Vagliкий. Vaglioo Kama. Vagliwo Kama. Vagliwo Kama. Vagliwo Kama. Pronto. Ma c'è qualcuno che piange o è un... Sono io! Lei chi, scusi? Che vota! Vabbè, presidente, succede. Che vota! E vabbè, non si adombri. Non li posso lasciare un minuto da sole? E vabbè, non si arrabbi, Presidente. Noi stavamo iniziando. Ma che l'ho detto io, porca cazzocia. Non pianga, su ora. Non mi sento il caso. Porra la tizia, porra la tizia. Ma come cavolo farà ad arrivare alla fine del mese? Beh, ci arriva, non si preoccupi, ci arriva, Presidente. Fisati a voglio. Eh, lo so, è successo. Tutte le feste si porta a via. Tutto rosso, è diventato tutto comunista. La me Milan, la me Milan, la me Milan. La sua Milano, lo so. Chi ha votato Pisa Pia, non è figlio di Maria. Eh, pure. Andiamo con tutti i proverbi. L'età, rosso, rosso, rosso. Ma no, che rosso? Il tricolore mi è diventato rosso, rosso e rosso. Ma no. Il Milan è rosso e rosso. Ma no, Presidente, non saranno. Ma no, incredibile, non potevo pensare. Quando mi hanno detto il risultato, mi sono messo le mani nei capelli, ma ne ho trovati solo il 44,89%. Vabbè, Presidente, possiamo iniziare ora? Iniziate e fatemi divertire. Faremo del nostro meglio, grazie. Voglio divertire. Non pianga. L'Italia dei Valori. No, adesso cosa c'entra? Guardi la platea, guardi la platea. È una parola, una lampa da bronzare. Sono usciti tutti stasera. Ah. Vabbè, non è vero, non vedo nessuno. Sì, guardi bene, che ce ne sono tre o quattro lì. Ah, sì? Sì. Allora, se continua. Chissà che sta facendo Santoro in questo momento. Chissà. Chissà dove sarà. Sta preparando la puntata di giovedì, perché è giovedì. Tu rimagini. Per l'oscuro intanto, se no te non dormi, perché il suo incubo sarà quello. Fammi l'incubo un po' cambiato. Ma c'è Santoro veramente? Qualcun momento, guarda che c'è Santoro. Beh no, non ci posso che sia qua. Oh, Michele, come stai? No, un saluto, eh. Solo un saluto. Non voglio mettere in difficoltà nessuno, anche so che giovedì darà il massimo, sicuramente giovedì, sa? Io vorrei essere ci giovedì. Non posso venire perché, sai, io sono Bipartin, io ho un occhio di qui e sai, devo lavorare. Devo lavorare. Mi immagino già la vignetta di Vauro che farà. Beh, farà sicuramente Berlusconi con le brache calate, sicuro, si è disegnato, carino, divertente. Pisafia col cetriolo killer, quello di cui parlano, che si parla il cetriolo. No, che così è. E lui, è disegno, mica è una cosa volgare, che poi siamo a Sistina e Radio 1, poi queste cose vengono edulcorate, mica siamo ad anno zero, voglio dire. Anno zero che dalla prossima puntata sicuramente si chiamerà anno uno. Allora i primi effetti delle lezioni di Pisafia già si cominciano a vedere. La discoteca Hollywood cambia nome in Stalingrad. Adesso si.